Con il più classico dei risultati, le Pescara e Spugna, il Tonino Benelli di Pesaro tornando al successo dopo tre turni. Vittoria limpida e mai in discussione per Sorrentino e compagni che hanno risposto nel modo migliore alle critiche dopo il pareggio di fermo. Auteri senza Ferrari squalificato e Giambome, Musciai e Dele Moneche infortunati si affida ancora a Cernigoi come terminale offensivo e sarà premiato dalla prestazione dell'ex attaccante del Seregno. La Vispesaro senza gli squalificati, Cusumano a quadro e Gucci, gioca con il 3-5-2. Alla Benelli si gioca di fronte a 900 spettatori, fra cui un centinaio di supporter spescaresi. Alla quinto minuto subito un pericolo per i biancazzurri con la traversa colpita dall'attaccante di casa Cannavò. Aggressiva la squadra di Banchini nei primi minuti con il pressing a tutto campo. All'ottavo parità nei legni con il palo di Dursi con un destro a giro davvero bello e che avrebbe meritato miglior sorte. Passa qualche secondo su cross da angolo di Pompetti, Cernigoi di testa mette alle spalle di Farroni segnando il gol del vantaggio abruzzese. Prima rete con la maglia del Pescara per l'ex attaccante del Seregno che viene festeggiato giustamente dai compagni. Gara subito emozionante, Pescara però in palla e vicino al raddoppio al quindicesimo con la traversa colpita dalla distanza da Marco Pompetti. La squadra di Gaetano Teri va alla ricerca del raddoppio con convinzione lasciando pochi spazi ai padroni di casa. Si gioca a buon ritmo con il direttore di gara che lascia spesso giocare con clemenza per il Pescara che si rivede al ventinovesimo con un tiro cross insidioso che fa finire la sfera di poco a lato. Bene gli abruzzesi che attaccano senza correre mai seri rischi. Al trentanovesimo su angolo di astrologo per la formazione di casa mischia in area abruzzese con il colpo di testa di Saccani che non crea problemi a Sorrentino. Nella ripresa al settimo azione pericolosa dei marchigiani con Lombardi che conclude però centralmente. Al decimo minuto si infortuna Pontisso che viene sostituito da Cancellotti ma il Pescara è in serata e cinico. E al sedicesimo Zappella schierato dopo l'uscita di Pontisso come centrocampista avanzato liberato da Clemenza in area 2 a 0 siglando il raddoppio per i biancazzurri che permette al Delfino di mettere la gara davvero in discesa. Al ventunesimo Cannavò per i padroni di casa sugli sviluppi di un corner colpisce di testa verso la porta di Sorrentino che si salva con l'aiuto del palo con i locali che chiedono il gol ma con il direttore di gara che lascia proseguire. Dopo lo scampato pericolo al ventiduesimo si infortuna anche Veroli nel Pescara che deve lasciare il campo a Drudi. La formazione abruzzese torna al 3-4-3 e con il doppio vantaggio Auteri al trentunesimo effettua un triplo cambio lanciando nella mischia Frascatore, Rauti e Blanuta al posto di Clemenza, Cernigoi e Dursi. La partita sembra non avere più storia con Rauti che si guadagna una punizione poco dopo impegnando da 30 metri il portiere della Vis Farroni. Alla 39 ci prova Cancellotti incornando il pallone di poco sopra la traversa, poi più nulla con i biancazzuri che portano a casa i tre punti a cinque giorni dal posticipo di lunedì 28 febbraio in casa della nuova capolista solitaria del campionato Modena.